Al via domenica prossima i campionati di A2 e A3 che interessano tre formazioni abruzzesi, due al maschile e una finalmente al femminile. In A2 la secortone esordirà Brescia dove ritroverà ancora una volta l'intramontabile ex Cisola che compirà 44 anni già proprio così giusto domenica. I lombardi che hanno sfiorato la promozione la stagione scorsa si sono ulteriormente rafforzati con l'arrivo di Giannotte e dell'Agnonese Patriarche non solo. Nella rosa presente anche l'ex Pineto Orazzi visto il cammino di precampionato e considerate le vicissitudini di una società che rischiava di scomparire addirittura tutto farebbe pensare in termini negativi ma abbiamo la sensazione che non sarà così. Il decimo anno consecutivo di A2 dell'Impavida va onorato sin dalla partenza. In A3 l'Abbapineto, tosto e agguerrito già dall'avvio dichiaratamente ambizioso, esordirà pure domenica alle 18 sul campo del Belluno una neopromossa che, a parte De Santis e qualche altro promettente attreta, appare alla portata del sestetto di Rovinelli, forte di un ottimo roster e di un sodalizio che ci crede. La nostra, a mio parere, è una squadra di ottima qualità. Il nostro obiettivo è stato nel crearla quello di costruire un insieme di giocatori che siano di stimolo l'uno con l'altro. Secondo me siamo riusciti nell'intento e quindi anche durante la settimana, negli allenamenti che facciamo normalmente, questa caratteristica viene fuori e sicuramente ci aiuta ad alzare il più possibile il livello del nostro allenamento. Il fatto che la società chieda esplicitamente la promozione in A2 è un peso o un grandissimo stimolo? È uno stimolo, altrimenti non sarei venuto. Nel senso, per fare un campionato di A3, di medio livello, sarei sinceramente rimasto a casa a fare altro. Mi ha convinto la volontà della società, l'ambizione della società e l'organizzazione della società. In A2 femminile si rivede l'Abruzzo dopo vent'anni e passa. La matricola altino difenderà la nostra regione partendo sempre domenica, male 17, dalla terra bresciana a Montichiari per essere precisi. Formazione ostica, quella ospitante che vanta tra i tanti nomi l'esperienza della Fondriest e in cabina di regia Beatrice Giroldi, ben conosciuta per i suoi trascorsi con la volta a Mantovana, finalista contro le Rossoblu e con la Tiatina in B1. Gli altri tornei nazionali inizieranno la prossima settimana. Promemori, infine, prendere nota, Pallavolè, seconda edizione, partirà mercoledì 13 ottobre alle 21, ospiti della prima puntata con un parterre eccezionale, oltre al presidente FIPA Vabruzzo di Camillo e al presso dell'Altino Papa, i due commissari tecnici freschi campioni d'Europa, Fefe De Giorgi e Davide Mazzanti, nonché l'opinionista Rai, tutta ortonese, Consuelo Mangifesta. Grazie a tutti.